... ... ... Nico! Marcellino! Come stai? Bruttissimo, cattivo, frottissimo, bene. Dove vai? A passare di Srutri, per un castello del mio fidanzato. Perché non mi ci porti? Oh sì! Senti, ti ha cercato paparazzo, voleva farti un servizio sul Giardin de Mode. Sì, ma io non faccio più fotografie di mode da un anno. Basta! Niccolina! Ecco la macchina! Niccolina, siamo qua! Avete posto per il mio amico e me? No, sali sulla macchina dietro! Oh, che dolore! Allora, inseriamoci a tutti! Sì, va bene, ciao! Ah, c'è posto qui per due creature infelici? Hello, Mary! C'è il 14 qua dietro, salite là! Oddio mio! Stop, stop, Oliviero! C'è un amico a me! Può venire anche lui, no? Il solito legnaccio è di cui ti d'amore! Vieni, vieni! Appena fuori Roma, qui di tu! Altrimenti prendo... Dopo Capranica, la scorciatoia degli olivi! Seguite noi! Ah, i soldi per le venti! Est-ce che gli aura ancora di morse, ton père? Ma, speriamo di no! Così ce ne andiamo a letto presto! Comunque, a quest'ora non ci saranno rimasti che i fossili! Le feste a casa nostra sono note come dei riuscitissimi funerali di prima classe! Tuo fratello è a caccia, mi pare! Irene! Riprendi un po' questa specie di figlia! La soluzione! Oh, oh, oh... Grazie